E bentornati dal vostro sample pro 12 Eeeeeee 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 Siamo con i miei amici Jacopo e Alberto e Massimo Ma che non parla Senti, non aspettate Ah, ok, a posto Jacopo e Alberto, salutate Aspetta, fatemi fare il saluto prima a me Fatemi fare il saluto prima a me Bella raga Ragazzuoli Ma è la raga, sono Alberto Come se... Vera è Jacopo Vera è Jacopo, raga Scusate la mia... Ragazzi, ragazzi Io ho modificato il nome di Alberto Si chiama Alberto, capito il grosso 98 Aspetta, aspetta Due secondi, aspetta che modifico il nick Meno Samer, ma siamo sempre in video un attimo per dire Sì, sì, siamo sempre in video Allora io, allora, infinché intanto tu fai la cosa che devi fare Io intanto spiego la challenge, Samer, che ne dici? Ok Allora, raga, in questo video faremo una ciao Oddio, e chi se lo ricorda? Ah, sì, in cui dove? Facciamo la kill Se facciamo la kill dobbiamo dire una cazzola Sesto della canzone Eh, sì, bravo, bravo Jacopo Oddio, metti un bel Oh, aspetta, raga Super Massimo ha scritto non me lo darà mai papà Il telefono dice Super Massimo in chat Vabbè, non è importante Vabbè, sì Scriva, raga Eh, facciamo, facciamo un urlo tutti E urliamo in tre In due E uno Urlate Ah 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 Ma che cosa? Dai, raga, dai, la faccio miseria Ma mi rompo le corde Io non mi rompo le corde vocali Dai, raga Allora, che dire Mettiamo pronto E andiamo Allora, ragazzi Questo è il numero del suo abito Raga, che è pronto Mette pronto, eh Io sono pronto Raga, non doveva urlare Questo video Annuncio Annuncio Questo video durerà Di più degli altri video Sì Cosa? Eh Che questo video durerà un po' di più degli altri video Sì Ma come? Sì Durerà Mi piace 46 minuti 46 minuti Samuel Allora Va bene un'ora Un'ora l'accetto Però Solo un'ora No Se vuoi Voi vabbè Siamo 46 minuti 46 minuti 46 minuti 46 minuti di video Dai facciamo Ragazzi Annuncio Annuncio Nella post Aspettate Martedì Martedì Alle 10 Aggiornamento Fortnite Mi sa che è alle 10 E aggiungeranno Un amico me l'ha detto E aggiungeranno Rullo di tamburi Il cubo di Kevin Raga ci sei Ragazzi Non facete così Non siamo in video Vi ricordo Vabbè Raga Lo sapete che Martedì Alle ore 10 Aggiungono Il cubo di Kevin Ragazzi Io Non ho fatto Ma una live Con Sam Forse 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 Mi chiederà Di fare un video Non lo so Mi chiederà Forse Di fare un pencherino Per fare live Ragazzi Andiamo E andiamo A Napoli Andiamo a Napoli Andiamo a Napoli Andiamo a Napoli Andiamo a Contano Ragazzi No 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 Attenzione Andiamo a Napoli Ma guarda a Napoli Guardi Luca A posto Non c'è una pizza Napoli Perterò 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 Ok E ora Raga Raga Seri Raga Seri Seri Raga Seri Oh No Dai Jacopo Non facciamo Figure così Che ha detto Che ha detto Jacopo Ti ricordo che Siamo in video Sai Io Dai Ma che ha fatto Jacopo Che ha fatto Jacopo Oh Che ha fatto Jacopo Alberto No No Perché dice Oggi Parliamo di Napolitano Oh Siamo in video Faccia miseria E poi ha detto Non ci vuoi Noi vedi si può parlare Di te Vabbè Alberto Noi siamo dagli youtuber Pazzi Dobbiamo fare i pazzi Sulle strade di Napoli Corro 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 Ok E sarai per sempre E sarai per sempre La mia lady Rararara Perché Ti punti di piedi Ho trovato Quest'arma Ok Questo nemico Non muore Sono morto Aiutatemi Raga Aiuto Oppure me mi stanno sparando Raga Parliamo Il napoletano Per tutto il video Sì Ma non c'è Il video Corro Si Faccio Che arrivando Te lo pido A provvedita Io credo Si è camminando Se mi fai Uno star Raga Ma io sto tanto Raga Ragazzi 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 Sì che mi piace Ragazzi Ragazzi Alberto Giacomo Non litigate No Allora Aspettate Per favore Ragazzi Per favore Per favore Non litigate E non facciamo E non facciamo Troppo i pazzi Solo un po' Facciamo i pazzi Sì però E non facciamo i pazzi E non facciamo i pazzi E auguriamo Con la pizza Con la marola Io sto il napoletano Ragazzi Ho pochissimi colpi Mi date colpi Sì E non c'è Ma io non c'è Io non c'è Io non c'è Il culo Dove io Caro Ti voglio Per favore Oh Non c'è No Capisci Il napoletano Ma Ma manco Sì 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 Parnocchi francese Ragazzi 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 Scusa Io mi sto dimenticando Ad ogni Circo faccio Di cantare Eh Devi cantare E non è il colpo Mi ricordo In realtà Poi dobbiamo No Non rompite Lo dobbiamo aspettare Massimo Bravi Grazie Bravi Cosa Tu volete Dalla mia vita Ragazzi Scusa Samuel 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 Come sei Dammi colpi Bobba No Non c'è Non c'è Non c'è Come non c'è Fermo 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 Esegui Ti faccio vedere Una cosa Ah Ah Non ci casco E Alberto Basta Basta È rotto Mi compro tutto Oddio No è mio Eh 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 Grazie No era mio Dai Dai Era mio Su strada Dai No No Chi è No Non due Ma Chi è Oh Ma te l'ho comprato un altro Credi Ah ok Va bene Va bene Devono mai Oh Dio Ma era no C'è Perdona Sì Sono una Leggendaria Come hai trovato un'arma Leggendaria Ma hai trovato un'arma Leggendaria Che cosa L'hai troppo No No Non ho sbagliato Però a me non mi piace Ecco il nemico L'occhio 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 Bocca 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 Ol Ho trovato il lancia Lazienvico Ragazzi Ho trovato il lancia Lazienvico No Fate Che sai Che sai Che sai Che scusa E Cosa Hai La L'amand La 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 le nostre no 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 stai tanto, chiami il video basta e anche lei che ti posso fare? ma Alberto ma Alberto ma vabbè non facciamo troppo casino però noi siamo pazzi è logico che facciamo pazzi nei video eh pazzi ma io non posso guidare eh mia madre mi cica vabbè vabbè comunque scusate ragazzi che mi seguono a casa che ho la mia assenza ma non andava bene l'internet vero raga? eh vero ragazzi da casa magari qualche volta li potremmo invitare nel nostro gruppo si ragazzi da ragazzi e noi diciamo di creare un gruppo dove entrano i fanni e diventano dei nostri gruppi ragazzi che mi seguono a casa e no noi possiamo chiamare ma il mio club si chiamano già così ragazzi che mi seguono a casa il mio team si chiama cecchinatoria adesso è già unito e dobbiamo fare il registro un video anche se non posso non posso parlare del mio video no? perchè con lei non riesco praticamente e e e faccio un e registro un video ok Jacopo non evitare che lo devo mettere al benzina ok ho messo la per ho messo la per ho messo la per no non esplore vai corri no non si può salire non si può salire eh cerca di salire cerca di salire aspetta però fermati fermati no non qua ci sono nelle macchine dove ah è vero guarda non mi freddate i colpi fracchic io ci ho acquisto le macchine E' un'altra domanda. Io ho creato una specie di canzone, però dura pochissimo. Raga, raga, vedete che ho chiusa la chiamata e che ho scaricato il mio telefono, però fatemi giocare comunque, sai, se no mi sento. No, Alberto, quanto sta il tuo telefono? Ehm, 15. E metti il caricatore, no? E il caricatore sta in un'altra stanza, praticamente si possa fare. E prendilo, no, il caricatore. Dai, 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 non puoi il caricatore, non puoi andare. Sono lui, non puoi andare. Dai, 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 dai. Dai, Alberto, puoi prendere il caricatore. No! Alberto, vai a prendere il caricatore. Massimo, Massimo. Alberto. E poi, se si scarica il telefono... E poi, se si scarica il telefono... E poi, se 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 scarica il telefono... ragazzi mi senti da ok no possiamo rimassire immagino possiamo rimassire ho messo la benzina ho venito uccidiamo la scuola e non è in maniera l'ultimo lo prendo io ok no ragazzi 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 in macchina no ve lo potete vedere questa lancia razza ve lo potete prendere la lancia razza io ce l'ho già sono i lanciarazzi non ti serve e ce l'ho già ce l'ho già e quella è la test così vogliamo salire alberto ce l'ho già alberto alberto ma voi siete che mi avete investito massimo 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 e vabbè io dovevo dire non voglio morire si dai infatti oh perché che va che va che va e rompete quella scala ma sì sì infatti dai andiamo la rompiamo dai ma come sono le persone rompetela e vogliamo no ho visto che cazzo una persona già vai e vediamo ma ragazza fate chiedere qualche leggo vorrei medicizzato per marcio dai oddio aspetta ragazza no 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 ok ragazza ragazza aspettate aspettate benissimo bravo bravo ho trovato lo spaz bravo è mio vettoria ragazza ragazza non mi chiamo a voi ragazza c'è da dire una cosa io ogni volta che facevo le kill mi ero dimenticato di cantare infatti ho fatto questa kill e mi ero dimenticato ah io pure vabbè fanno i disangoli scusatemi ma mi sa che non lo so che dire cioè mi dimentico che posso fare vabbè io canto lo stesso no aspetta ma io uno ne ho killato quindi devo cantare anch'io allora a me banana a me banana a me banana a me banana non lo so non litigate non litigate però non litigate facciamo doppia challenge la challenge di questa adesso di questa di questa challenge adesso e facciamo anche la skybase costruiamo in altissimo costruiamo in altissimo e poi dobbiamo stare lì per tutta la partita cosa raga continuiamo sta no voglio fare la doppia challenge no dai oh raga io vado a giocare con un amico mi stai invitando da tanto tempo così non la smetterà no no Alberto si vabbè ormai ciao vediamo un po' che possiamo chiamare ma non può manco fare tutte le cose in video e le va io lo chiamo non me ne frega non capo io lo chiamo sa voi ti ricorda quando hai fatto la live che io ti invitavo all'infinito è vero non ti ricordi quando avevi fatto quella live no non so se stai dicendo vabbè non è importante ma ti ricordi che io ti stavo invitando sono ma e comunque no io allora stavo con l'amica da invitarti e ti stavo guardando volevo vedere che volevo vedere la generazione era uno scherzo ok e Jacopo mi dai leader mi dai leader ok ok mettiamo mettiamo un'infinito un'azionata ma questo è super massimo allora facciamo anche una sfida chi costruisce il fortino più alto e bello vince ok ok Jacopo puoi scrivere al massimo in chat scrivi al massimo nella chat che stiamo facendo una sfida chi costruisce il fortino più alto e bello vince ok 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 dai raga dai raga spero che vinco io e dai che vinco io davvero chissima lo vedremo mettete pronto no aspetta se potremmo vedere se c'è va lo scrivo io ho capito massimo ha scritto è riuscito bene o cominci il video scrivi bellico scrivo non non abbiamo ancora più scusate man scusate che è che è successo no vi si non lo è per tempo scusate ragazzi se non ti dai più non l'ho scritto poi l'accento non voglio andare alla come comunque ragazzi non guarda il napoletano che non guarda il napoletano ok ha scritto ok abbiamo però ma lo vuoi aggiungere chi è Alberto no massimo un momento si risponda provo al massimo bene metti pronto Giappo sto scrivendo e prima ne va capire ma l'ho già scritto io eh l'ho già scritto io si metti pronto dai Giappo stai prendendo te prezioso ok a che minuto stiamo a a quasi 29 salto quella parte no salto quella parte quale parte ah no 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 come allora regole regole no no non ci sono regole allora io mi prendo bella la bella minigun e il bisappolo no però questo non vale questo non vale con la minigun allora le armi non valgono no no se le usi mettiamo bhe come bhe non ah così facciamo non dobbiamo usare quel pulsante no come si non lo dobbiamo usare distruggere capisci capisci se la trovava la bhe oh ecco si lo ho trovato lo ho trovato lo c'è oh vieni qua ma ma siamo un lobby sto non 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 penso un 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 Allora, iniziamo! Non ce l'ho io. Non è vero, io la mi mancaggio. Chiudete? Sì. Wow. Mamma mia! Mi sto svolgassando! Cosa? Sono in vantaggio netto. Devo cilidare il passo. No, è scaduto! Più vantaggio per me allora. Non so, io già non ti ho recuperato. Guardalo qua il Samuel! No! No, no! Ragazzi, ora mi vantaggio io, ora mi prendo io il rampino. Non posso prendere il rampino! Perché? Ma non ci sono le armi! Sta vincendo Samuel! Sai che è il grosso capogiorno a recuperarti. Ma non aspettami se sei onesto! Disonesto? Perché sono disonesto e disonesto? Però aspettami se sei onesto! Ma io vuoi lavorare nella challenge! No, perché io ho caduto con la tua fortuna! Sennò io ancora stavo succedendo! Ti butto nel nulla! No, che è successo? Che sei la bacca tutta! No, ma ti faremo un bel anno! Ma no, te sei disonesto, non io! Guardalo! Guardalo! Ciao, Rosali! Così impari! Aiuto! Sono l'inglese! Ma nel nulla! Hai barato te! Ti hai barato! No, io non ho barato! Già! Ma è vero, soltanto che so... Non parte di te! Ragazzi, posso distruggere tutto? No! Ma non dovevamo litigare, scusa! Ma non dovevamo litigare, scusa! Devo continuare, devo continuare... Ma scusa, non dovevamo litigare, scusa! Sennò facciamo la figura degli schifio! Non dobbiamo litigare! Ma io... Non sto litigando! Ma insultare! Te prima mi hai insultato, lo sai? Che? Mi hai insultato prima! Sì, è vero! Hai detto che sei... 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 Che hai detto? Lo continuare è le costruzioni! E che cambia a costruzioni o no? Che cambia? Cambia! Sì, perché stai dicendo che sono un hub, lo sai? sì, allora facciamo il tempo per sparare di usire le costruzioni ma Jacopo basta no no no, mamma non so come mamma mia vediamo se mi recuperi non le sentite le regole prima che avevo detto prima del video? sì non mi sembra a me però te intanto hai sabotato che hai detto una regola non puoi rompere vostri già idea ma io poco poco ci ho distrutto intanto sono caduto e non mi riferisco basta litigare hai rotto manco un video si può fare bello manco un video ma ci voglio chi è ci voglio? Tipo chi è? Guarda che io sto scherzando, sai? Ma boh, 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 sta mappa che non riesco più a dare Senti, ricominciamo tutto da capo No! Te prima lo volevi fare Senti, io voglio prendere l'ampino Ha copiato la mia tattica Lampino, mi schiuso Jacopo, ma te c'è le H comunque Che stia dicendo? Guarda quanto sei in alto, te già guarda dove sono io E te, non costruisci veloce Basta questa costruzione Basta questa cosa delle costruzioni veloce Ma ti spero dal gruppo Ciao, ciao Ciao, Jacopo Mo' ti spero Eh? Sti superato Eh Tanto mo' ti spero Già sono in alto Già sono in alto Che cavolo Guarda che ti sto raggiungendo, sai? Eh? Stop! Vediamo i risultati della sfida Vediamo i risultati della sfida Ho vinto io? Oh, non lo sappiamo ancora Dopodiché non lo scato così possiamo arrivare alla mia costruzione La mia, sì, non è male Pure quella di Jacopo A me mi do nove e mezzo Perché l'hai distrutta? E a Jacopo Invece Un'otto Adesso torniamo in lobby Ho vinto io No, io ho vinto Io nove e mezzo Ho preso E non lo scato E la sfida era una altezza Daniele è la più alta Ma non Ma è pure la mia appello Basta Ecco, io ce l'avevo detto Se voglio Eh, Jacopo Jacopo Facciamo impostoria Eh? Facciamo impostoria Ok Ho qua la leva Bene Almeno quattro Giocatori Mettipo Ti vediamo Mattia Mettipo No, io ce l'ho facendo Cosa? Il video è sofferto Comunque ragazzi Viste che è già Un po' di tempo Di tempo Insomma Da quanto tempo è Questa qua? Da 40 minuti No, vai Sto E poi Io vado a vedersi Il video di 40 minuti Eh Questa partita In posto E chiudiamo il video Questa Ragazzi Questa partita In posto E chiudiamo il video Non posso giocare Ci servono Quanti giocatori Eh, ho messo pubblico In pubblico Si può fare Ho messo pubblico Quindi puoi mettere pronto Ragazzi Commentare Qua sono Di commenti Quelli Possiamo Ci confermere Più Devo dire A me A me A me pure Pace Piace La pizza Però il panino Che fanno A Gallipoli Quello là Non me lo toglie nessuno Mi piace Un casino Quello là Il panino pure E' buono Cosa sa? Il panino pure E' buono Ma la pizza Non la parte È buonissima Sono io l'impostore Da dove venite? Se venite da Napoli Da Da Roma Oppure Da Torino E venite Da Torino Scommettero 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 La Juve Come ne Forza Juve Scrivetelo Forse Scommettero Io sono Dabu Io sono Dibu Scommettero 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 Grazie a tutti. Ma te hai mai giocato in questa modalità? Sì. Vuota l'albero, secondo me è l'albero. L'ho vista e mi sembra troppo strano. Dove è l'impostora comunque? Non stavo svolgendo incarichi. Scusa. No, ma sicuramente è il nome perché non stavo svolgendo incarichi. Sì, l'ha il paro, no? E mo' come lo uccidano? Allora, potrebbe essere... No, ma questo sia un rinunciolo, sono io l'impostora. No, è scemo sto albero. No, no, non l'ho capito. È vero. È l'albero, è l'albero. È l'albero, è l'albero. È l'albero, è l'albero. No! Sei morto? Sì! Ma porca miseria! Dammi il rio, sono l'impostora. Davvero? Sì! Un secondo uno! Ok! No! Guarda lei ma ci spieghi con questo impostore! Nuovo del numero 5 Così me la prendo già lì e seguì la macchina Scrivi sono io l'impostore! Scrivi sono io l'impostore! No! Votate uno! No! Votate uno! Numero 5 Io voglio uscire il numero 3 Perché io voglio un numero 3? Eppure Superman! Guarda che io ti sto guardando di dietro solo che te non mi vedi io sono un fantasma! Come si uccida? Quando ti appare il colore! Un po' sei spacciato! Sei spacciato! Sei spacciato! Sei spacciato! Uno è l'impostore! Una è l'impostore! Bravi! Uno è l'impostore! Vi saluto! Vi saluto! Vi saluto! Vi saluto! Grazie. 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 Giacobo ci sei io? Sì. È bellissimo. Dai, facciamo un'altra. No, Giacobo! Non vedo. Il numero 5. Il numero 1. No, usate il numero 1. Ah, c'è lui. Guarda. Nessuno è eliminato. Quando finirà sta partita? No. Anche 40 minuti. Due impostori mancano ancora. No, Giacobo dobbiamo abbandonare. Ok. Poi ne facciamo una agenza... Come si chiama? No, no, no. Sì. No, almeno devo avere... No, almeno devo uccidere uno. No. 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 Ci sono? Vabbè ragazzi. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like. Attivate la campanellina. e al prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.